Un anno e sei mesi di reclusione, il risarcimento della parte civile da liquidare in separata sede, il pagamento delle spese processuali. Questa è la condanna combinata alla Tribunale di Sulmona con sentenza del giudice monocratico Francesca Pinacchio a un trentenne residente in un paese circondario e ha le sue iniziali per i reati di stalking e lesioni. I fatti risalgono al 29 agosto 2016, quando il giovane aveva avuto una relazione amorosa con una donna di Sulmona e quella mattina di tre anni fa, dopo aver trascorso la notte insieme, il trentenne ha strattonato la sua compagna procurando le lesioni giudicate guaribili con una prognosi inferiore ai 20 giorni, come attesta il referto medico emesso dal pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. La vittima, all'epoca dei fatti, è restato di gravidanza. Da quel rapporto tra i due è nata infatti una bella bambina. Nel processo risulta persa un'offesa anche la madre dell'ex compagna del trentenne. La donna avrebbe ricevuto una serie di telefonate minatorie dal finanziario della figlia, una delle quali un mese prima dell'aggressione in casa. Un particolare che l'avvocato del trentenne, a delle buccini, ha fatto notare in sede le discussioni del processo. Sarebbe stato proprio la donna esortare il finanziario della figlia, restare accanto alla prole quella notte del 28 agosto per non lasciarla sola. Poi si arriva all'aggressione denunciata il giorno dopo. Nel capo di imputazione la magistratura ha contestato al trentenne anche il reato di stalking nei confronti di madre e figlia. Come moratore infatti il giovane lavora in un'abitazione a due passi dalla casa delle due donne e secondo l'accusa ne approfittava per osservarle e per controllare tutti gli spostamenti. La relazione del trentenne alla giovane è finita quella mattina del 29 agosto, ma lui non si sarebbe arreso, tant'è che la inseguiva nella stazione ferroviaria quando lei prendeva il treno per raggiungere l'università. Per le due donne quella storia era diventato un vero e proprio incubo. La figlia poi ha dovuto anche affrontare un procedimento penale dal quale è uscita assolta dopo la denuncia dell'ex compagno, un processo che per il suo percorso professionale le ha procurato ulteriori danni. Il giudice Pinacchio ha quindi pronunciato la sentenza di condanna per E.A. a un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, al pagamento delle spese processuali, a risarcimento dei danni nei confronti di madre e figlia da liquidare in sede civile.